Le due sorelle sfregiate con l'acido a Napoli si indaga per deturpazione permanente, domani comitato per la sicurezza in prefettura. Le indagini della squadra mobile di Napoli sono in corso per individuare chi a bordo di uno scooter la notte del 30 maggio ha lanciato una bottiglia di acido contro due sorelle di 24 e 17 anni. Le lesioni non sono profonde, ma per cancellare i segni dei loro volti sarà necessario l'intervento del chirurgo plastico. Le ragazze, ascoltate dagli inquirenti, hanno ricostruito quello che è accaduto. Adesso si cerca il movente, forse una sorta di spedizione punitiva, una vendetta, non ci sono ancora certezze. La procura ipotizza il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e intanto è allarme ordine pubblico a Napoli. Domani in prefettura un comitato urgente sulla sicurezza, a cui parteciperanno anche la procura e il tribunale dei minori, il prefetto Claudio Palomba. Questi fenomeni hanno necessità di essere analizzati sotto un profilo un po' più ampio. Perché c'è questo forte aumento di violenza giovanile? Stiamo prendendo una serie di misure, rafforzamento dei controlli, rafforzamento di videosorveglianza, però abbiamo necessità che siano interventi anche sotto il profilo sociale. Michela Mancini, GR1